Tra le iniziative promosse dal Consiglio per il 25 novembre, la campagna di informazione in tutte le istituzioni e gli ambulatori con i numeri telefonici per le vittime di violenza. In 12 sale del Piemonte è stato proiettato il film su Malala, giovane pakistana che lotta per il diritto delle donne a studiare nel suo paese, e a Palazzo Laskaris il convegno sul tema Piemonte in rete contro la violenza di genere. Piemonte in rete contro la violenza di genere, una giornata importante in cui si inizia un percorso. Si mettono a sistema tutte le risorse presenti sul territorio degli operatori che si occupano di questo argomento, per contrastare la violenza, aiutare, supportare, confortare, tutelare le donne e aiutarle ad avere il coraggio di denunciarlo.